abbiamo creato la scorsa volta un progetto il contenitore più grande possibile rosa possibile da creare in prosa quindi un collettore molto ampio all'interno del quale è possibile inserire obiettivi e interventi precise da svolgere all'interno dell'anno e quindi è possibile che un progetto possa essere portato avanti lungo anche più di dieci anni e quindi un grande contenitore con molte informazioni al suo interno e anno per anno si possono aggiungere obiettivi e aggiungere interventi precisi proprio precisi per l'anno in corso ecco che quindi gli interventi e gli obiettivi sono la parte principale di prosa la parte più importante perché sono effettivamente le azioni messe in campo sul territorio in un preciso lasso di tempo e sono quelle azioni che sono poi chiaramente rendicontate che fanno parte poi di quello che è la registrazione e la rendicontazione di quello che l'azienda e di quello che gli operatori fanno sul territorio e ovviamente anche dal punto di vista progettuale la messa in pratica di tutto quello che è stato progettato e strategicamente previsto per il progetto quindi oggi inseriamo per esempio un nuovo obiettivo questa è la scheda di questo progetto che abbiamo scritto ad hoc per l'esercitazione un progetto che ricalca un po' gli unplugged che già voi avete l'ho chiamato unplugged Silvano e vedete ci sono già degli obiettivi ci sono già delle azioni noi inseriamo un nuovo obiettivo gli obiettivi possono essere presi dall'attuale piano di lavoro dall'attuale piano di prevenzione in corso nella regione Piemonte oppure possono essere scritti ad hoc dal gruppo di lavoro per esempio io qui potrei mettere formazione degli insegnanti salvo i dati ed ecco che formazione degli insegnanti è un nuovo obiettivo detto questo inserisco l'azione se desidero spiegare meglio cosa intendo per formazione degli insegnanti è questo obiettivo specifico voglio scrivere i dettagli voglio lasciare scritto lasciare per iscritto quello che intendo come questo obiettivo posso farlo in questo luogo e posso riempire questo spazio in modo che sia molto chiaro qual è questo obiettivo e se è possibile anche quantificarlo in maniera numerale ma in questo caso non ci serve e inseriamo l'intervento azione a a a a Grazie a tutti